Un libro per l'Europa di Thierry Vissol Arte e Potere Il mondo salverà la bellezza con un punto interrogativo e pubblicato da EDS nel 2014 Allora Roberto Gramiccia ci puoi spiegare in due minuti il tema del tuo libro Sì, il libro, intanto vi ringrazio dell'invito il libro seguita, come dire, in qualche modo a dimostrare un mio interesse nei confronti di una comunicazione con un pubblico vasto il più vasto possibile che normalmente viene escluso dalla conoscenza dei problemi che riguardano l'arte in questo senso può essere considerato come una atipica, anche divertente e cordiale introduzione alla storia dell'arte la tesi principale che io sostengo nel libro è che l'arte durante i secoli ha sempre mantenuto nonostante i suoi rapporti problematici con il potere con le forme che esso ha assunto nel corso dei secoli una sua residuale autonomia e nel senso che l'essenza dell'arte ha sempre manifestato la libertà creativa che è indispensabile all'arte stessa e anche un'analisi critica sulla realtà e sulla società assolutamente sì perché la tesi principale del libro è che nell'ultimo periodo nel tempo dell'arte di oggi purtroppo i processi di mercificazione di arrogante invasione delle dinamiche del capitalismo finanziario globalizzato ha fatto sì che l'arte si sia trasformata in una merce perdendo la sua connessione alla realtà trasformando valori concetti come quelli di valore di qualità in prezzi e quindi mortificando quella natura che nel corso dei secoli era stata mantenuta viva e tu pensi che questo movimento diciamo di globalizzazione di mercificazione cioè di trasformazione in merce dell'arte potrà finire essere contraddietto e l'arte ritrovare la bellezza e l'interesse io lo penso lo spero perché questo ha a che vedere con i destini dell'umanità dipenderà da noi evidentemente dovremmo essere noi e cioè la gente interessata a mantenere viva l'attenzione critica l'intelligenza critica e l'interesse per la vita anche laddove si considera l'uomo non soltanto in relazione a quello che possiede e quello che ha ma fondamentalmente in relazione a quello che è e può diventare sì e grazie dunque a Roberto Gramiccia e al suo libro Arte e potere Il mondo salverà la bellezza pubblicato da EDS nel 2014